ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con risposte ai vostri commenti come al solito i commenti con bel video bell'esplorazione e cose del genere considerate come se avessi già risposto a tutti grazie a tutti e cominciamo con il primo commento che è di cane nero dal canale l'islam spiegato da un cane sotto il video sui cristiani evangelici a questo commento avevo già risposto ma c'è qualcun altro che ha risposto e leggiamo il commento originale era loro come mentalità sono fra i più inquietanti non a caso odiano i musulmani come ideologia folle infatti sono abbastanza simmetrici per cui fra tifoserie tendono ad azzuffarsi su youtube se ne vedono di ogni ciao super marco bel contenuto e un certo guido risponde se leggessi il corano odieresti anche tu i musulmani ti consiglio di farti un giro su youtube e farti una tua personale idea cioè questo è un canale che si chiama l'islamo spiegato da un cane gli dice di leggere il corano e infatti cane nero gli risponde io leggo è come il corano odio certe idee non le persone non è difficile dai ma uno che risponde così a qualcuno senza neanche vedere cosa fa di cosa si occupa ecco questo è il solito fanatismo religioso e non dico cristiano in questo caso il fanatismo cristiano contro i musulmani ma lo stesso c'è i fanatici musulmani contro i cristiani contro gli ebrei i fanatici ebrei contro i cristiani musulmani i fanatici di qualsiasi religione contro fanatici di qualsiasi altra religione che bella roba sempre sotto lo stesso video c'è il commentone di angelo che scrive mamma mia quante inesattezze in realtà la prima parte storica per quanto sintetica non è sbagliata ma poi chiamarla setta non è corretto prima di tutto come ti sarai informato non esiste un unico organo decisionale come nel caso dei testimoni di geova anzi è tutto uno spezzatino quindi come ogni cosa c'è la chiesa con il pastore che chiede soldi come c'è quella sana e rispettosa c'è quella che chiude le porte e c'è quella aperta e disponibile inoltre stiamo parlando di numeri ben più grossi di una setta 600 milioni di persone al mondo si riconoscono evangelici ma guarda queste sono tutte cose che nel video ho detto e quindi non capisco dove sia l'imprecisione è semplicemente ripetuto con altre parole quello che ho detto io nel video e comunque che siano tanti che siano pochi sempre di setta si tratta come la setta cattolica la setta calvinista sono tutte sette sono tutte sette sotto sette della religione principale che è il cristianesimo evangelici poi un termine che non vuole dire molto perché è un macro cappello nel quale ci sono tante correnti battisti presbiteriani riformati calvinisti pentecostali eccetera e ancora ripeti le stesse cose che ho detto io nel video quindi dove sarebbero queste imprecisioni e andiamo avanti citi poi i predicatori che si arricchiscono che professano quello che viene chiamato vangelo della prosperità ovvero il vangelo secondo il quale più hai fede più diventi dico e di conseguenza se sei povero hai poca fede questa dottrina è combattuta da tutti i gruppi evangelici quelli che ti ho citato prima ma guarda questo non è vero perché per esempio quella che mi aveva rotto la gamba è proprio uno che crede in queste cose evangelico qui sei tu che hai detto l'imprecisione sei tu che hai detto una cosa sbagliata e andiamo avanti poi il discorso sul fatto che tutto è fatto per soldi conosco pastori poveri i pastori benestanti pastori che dalla chiesa non pretendono una lira ma che hanno un lavoro generalizzare così è pericoloso oltre che falso sarebbe come dire che tutti i preti sono pedofili falso nonché scorretto sì ecco su questo forse hai ragione magari ci sono quelli che non se ne approfittano ma tanti sì la maggior parte sì già solo che vogliono predicare a qualcun altro la parola di dio vuol dire che loro sono in contatto con dio già qui si ritengono superiori e hanno già un vantaggio psicologico sulla gente o sono tutti vantaggi che alla fine portano soldi e non si può dire di no fanno parte inoltre del mondo evangelico associazioni come compassion che si preoccupa di aiutare i bambini in zone difficili del mondo e porte aperte open doors in inglese che si preoccupa di tutelare i cristiani perseguitati in zone come nord corea cina india somalia e anche questo l'avevo detto nel video quindi bovel imprecisione per ora l'unica cosa imprecisa che è stata detta l'hai detta tu quando hai detto che non tutto è fatto per soldi per avere potere e e invece sì e la storia del vangelo della prosperità che è vera non è non è vero che viene rispinta da tutti gli evangelici anzi ma andiamo avanti nel video hai citato interessi comuni con il narcotraffico senza citare fonti esplicitamente in messico per esempio molti cristiani sono perseguitati perché denuncia in cartello come non ho citato fonti l'ho detto subito sia all'inizio che alla fine del video andate sotto nella descrizione del video che ci sono tutte le fonti ma evidentemente tu da buon cristiano te ne sei fregato come fanno sempre i cristiani ma le fonti io le ho citate concludo ho apprezzato il video perché mi piace che vengano fuori problemi e vengono denunciati ma mi dispiace quando si fa una generalizzazione e io concludo finalmente qualcuno che anche se la pensa al contrario di quello che penso io però commenta educatamente però se poi dici castronerie allora il commento non è una così gran bella cosa perché scusa eh ma o hai ripetuto con altre parole le stesse cose che ho detto io oppure sei tu che hai detto in precisioni oppure nell'ultimo caso te ne sei proprio fregato delle fonti che io ho citato e non si fa così e passiamo ai commenti sotto il video su me giugori il primo commento è di antonella che mi chiede salve signor marco mi permetto di chiederle se è stato a me giugori no a parte grazie per il signor che vabbè grazie però no non ci sono mai stato e mai ci andrò perché tutta la gente conosco gente che c'è stata sia lì che a l'urde che a fatima e tutti ferventi credenti cristiani che poi quando sono tornati hanno detto ma che cazzo di truffa per turisti è ma che roba finta è tutti e tutti quelli che ci sono andati tutti che quando sono tornati hanno detto ma che cavolo di truffa e quindi non vedo perché andarci poi ci sono tanti di quei filmati sono i veggenti i frati francescani che gestiscono i veggenti che si vantano di tutto hanno il loro sito e infatti tante delle informazioni che ho detto in questo video le ho prese proprio da quel sito quindi non è che ci sia troppo bisogno di andare per sapere quali castronerie vengono diffuse in quel posto e che posto truffa per turisti sia oh e poi sempre sotto lo stesso video c'è il certo donato che già aveva commentato insultandomi pesantemente che non contento avanti ancora leggiamo un po' quali perle di cultura scrive arrivano i geni delle apparizioni virgola virgola spazio sanno tutto loro virgola virgola e non sanno niente i veggenti virgola virgola fin da bambini spazio spazio sono stati spazio spazio perseguitati dalla polizia dalla chiesa e scienza virgola virgola vengono qua il segnale spazio spazio il discernimento a me poveri biadi spazio virgola virgola spazio me giugorie è un miracolo di maria non riuscirete a insabbiare ma non contento va avanti i veggenti lavorano in pensione o albergo virgola virgola spazio non sono miliardari lavorando virgola è giusto che abbiano il loro salario virgola virgola con le loro maestranze virgola virgola tu dev andare da uno veramente bravo e continua demente cosa farai quando arriverà il segno punto di domanda punto di domanda punto di domanda dove sparirai punto di domanda punto di domanda a tutte queste cose rispondo solo una quando arriverà il segno dove mi nasconderò ma quale segno la profezia farlocca che aveva fatto gesù il disegno del padre mio si avvererà entro la fine di questa generazione sono passati duemila anni quello lì era un charlatano ha fatto una profezia come quella dei testimoni di geova e di altri cazzoni che si si inventano profezie per attirare per farsi dare i soldi dalle greggi di piccorelle e dai ma infatti gesù si faceva dare i soldi dagli altri e come avevo fatto l'esempio di anania quando non gli davano tutti i soldi fino in fondo li faceva ammazzare dal fedele pietro che bella gente comunque avete visto il livello di cultura anche come si esprime questa gente in questi modi se uno si esprime così vuol dire che capisce così anche quando gli si dice qualcosa o quando legge qualcosa figuratevi cosa ha in testa questa gente che si esprime in questo modo ma non contento è andato ancora avanti addirittura youtube nasconde i commenti proprio quelli offensivi e c'è un altro commento sempre di questo personaggio che scrive non era durante l'apparizione stavano pregando idiota virgola virgola idiota virgola 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 idiota virgola 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 demone falso virgola senza spazio io so er lì spazio virgola virgola er lì tu hai una lingua biforcuta virgola virgola non conosci la loro polizia la pressione psicologica di tutti x anni virgola non sai cosa vuol dire virgola una faccina di così grazie per gli insulti idiota di cui di lì io a questo commento l'ho provato come tutti gli altri così chiunque li può li può vedere poi magari youtube lo nasconde però io l'ho provato così chiunque può vedere l'ignoranza di questa persona che è il perfetto rappresentante del fanatismo religioso che fa presa sulle persone più ignoranti quelli che capiscono meno di tutti che hanno la testa che non gli permette di arrivare a capire che li stanno prendendo per il culo e infatti si vede da come si esprime e ora cambiamo argomento con il commento di costantino sotto al video su fotografie misteriose e orbs mi dispiace contraddirla ma non è come dice lei ho avuto delle risposte più precise in merito quasi tutte precise a quello che lì mia telecamera registra sì immagino risposte precise quelli che dicono ah quello è il fantasma quella è l'energia quello è l'altro fantasma che ti risponde e tutte ste cazzate gli orbs non sono fantasmi non hanno niente di paranormale come ho spiegato nel video sono semplicemente oggetti minuscoli come possono essere granelli di polvere o gocciolini di umidità o insetti che sono davanti all'obiettivo illuminati dalla luce ma sono una distanza che rende impossibile l'obiettivo di metterli a fuoco tutto lì gli orbs dai e o se uno dice che ha avuto risposte che lo soddisfano il più appunto perché tu ti aspettavi quelle risposte volevi essere soddisfatto da quelle risposte ma la verità non è quella la verità è che gli orbs non hanno niente di paranormale dai e poi c'è il commento di andrea sotto al video della costruzione del bracciale a tripla catena sarà anche una lavorazione molto semplice ma io non credo ce la farei anche se la manualità non mi manca gran bel lavoro marco oh yeah come sempre oh yeah anche a te ma guarda lavorazione semplice sì perché adesso ne sto facendo molto più complicate quando prendi la mano più vai avanti più le prime lavorazioni che ti sembrano chissà che difficili poi diventano semplici e questa qui si è una lavorazione abbastanza semplice e poi sempre andrea sotto al video del pendente di pietra multicolore commenta tutto fatto a mano grande certo ce ne sarà voluto per fare il foro a mano con la lima ma d'altronde farlo con qualche strumento era troppo rischioso e il risultato finale è straordinario grazie per lo straordinario però sì hai ragione io quando faccio i fori per far passare anellini o cordini o qualsiasi cosa che abbia bisogno di passare dentro al pezzo di pietra gli faccio il buchino piccolo fine 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 con il tremel però poi lo allargo a mano con la lima tonda fine 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 fino a portarlo a misura giusta perché appunto così evito eventuali vibrazioni causate dal marchi ingegno elettrico che potrebbero spezzare la pietra sotto al video dell'esplorazione alla its artea di parabiago c'è il commento di future pilot hope che scrive ci sono stato oggi la situazione purtroppo non è cambiata una fogna vera e propria nonostante tutto esplorazione avvincente la consiglio bisogna stare attenti agli abusivi però boh non so quando c'ero stato io sì c'era una famiglia abusiva lì però appunto era una famiglia con i bambini piccoli erano lì nel loro appartamento che si erano riassettati che si erano messi a posto e non hanno detto niente ci hanno visti ci hanno salutati noi li abbiamo salutati basta tutto lì magari adesso c'è altra gente che invece rompe le balle non lo so comunque hai ragione il posto è interessante poi sotto al video dell'esplorazione al tubettificio masciocchi marte scrive quindi chi ci vive lì dentro tossici irregolari spacciatori dei boschi criminali ecco queste domande non sono così belle perché tossici spacciatori perché bisogna pensare subito male ma sai quante volte c'è gente che vive in case abbandonate che poveracci magari fino al mese prima avevano il lavoro ha chiuso l'azienda basta hanno perso il lavoro non ne hanno trovato un altro non hanno soldi per pagare l'affitto e dove vanno a dormire o sotto un ponte o nella fabbrica abbandonata non è che sono tutti criminali spacciatori dei boschi i malviventi boh che modo brutto di pensare questo e arriviamo ai commenti sotto all'ultimo video con le risposte ai vostri commenti e il primo è di dida che scrive ciao marco che belle quelle catene quando inizio il lavoro sei fissato come me che devo portarlo per forza a conclusione e mi isolo ah sono offesa che non mi hai risposto non è vero che ti ho scritto ma volevo farti un po sentire in colpa per quanto riguarda la religione non mi esprimo che tanto più o meno hai capito come la penso poi io le rispetto tutte basta che mi lasciano in pace eppure c'è un paio di persone che nonostante tutto mi mandano il buongiorno e buonanotte coi santini cari e io soffro e anche se non rispondo continuano imperterrite purtroppo sono persone che non posso bloccare altrimenti lo farei con gran sollievo sì quelli dei buongiornazzo buongiornissimo che poi sono gli stessi che ti mangiano mandano il buongiornazzo buongiornissimo caffè con l'immagine del santo che tristezza quelle cose proprio boh non le capisco e per il lavoro che dici che sono fissato come te mi sa che io sono un po più fissato perché soffro proprio di disturbo ossessivo compulsivo avevo fatto anche un video riguardo anzi per chi fosse interessato a questo disturbo lascio il link sotto nella descrizione di questo video così andate a vedervi quell'altro video che è molto interessante e poi c'è il commento di fabio ciao marco scaricato messenger per contattarti ma non vedo una tua immagine tra i vari marco patania guarda ti ho mandato anche l'amicizia su facebook comunque tra i vari marco patania io sono quello col nome più lungo marco alessandro david patania fra parentesi to speed proprio su facebook mi trovi così e passiamo al commento di francesco che scrive perfetto marco non vedo l'ora di fare un'esplorazione con te il relitto anche se credo non ti interessi è la gemella del titanic il britannic che vicino a napoli aveva colpito una mina subacquea per poi affondare o non è che non mi interessi però te l'ho detto per andare sotto un centinaio di metri a fare un'immersione bisogna avere esperienza allenamento attrezzatura tutte cose che io non ho quindi è un po dura scendere lì sotto grazie per l'offerta ma purtroppo no poi c'è andrea che commenta bellissimi tuoi ultimi lavori fanno davvero la loro scena ah la pasta salda avevo un dubbio in effetti la usavo a scuola per fare la saldatura cannello con i tubi di rame vi vale tutti quel diorama considerando tutto il lavoro dietro ripeto è troppo bello comunque sì come vedi hai notato anche tu che trasgrediscono lo stesso e sono farlocchi come tutti gli altri aspettiamo il prossimo video sorpresa marco oh yeah il prossimo video sorpresa l'hai visto era quello dell'esplorazione all'hotel pagoda cui è legnano la storia che trasgrediscono ma guarda io vedendo anche documentari interviste su gente fuoriuscita da vari gruppi tutti vorrebbero trasgredire tutti vorrebbero essere liberi da quei regolamenti però purtroppo ci o ci sono cascati o ci sono addirittura nati in mezzo e in quei casi è difficile uscirne molto difficile e finalmente arriviamo ai commenti sotto all'ultimo video pubblicato qualche giorno fa sull'esplorazione all'hotel pagoda di legnano il primo commento è di emozione sonore a 78 giri peccato non sia riuscito a visitarlo tutto spesso quando si fa urbex ci si imbatte in certe situazioni conviene sempre non andare da soli prima o poi qualcuno posterà la disco a fianco ma guarda io tutte le volte che sono andato da solo mi è successo anche altre volte di incontrare gente ma e parlando educatamente non mi è successo niente e la discoteca di fianco purtroppo non ci si può entrare perché c'è un custode con tanto di famiglia che ci abita dentro e quindi non è abbandonata è solo in disuso ma con custode quindi lì non ci si entra poi c'è il commento di urbex italia associated che scrive dal 1974 è chiuso nel 2020 rapida la totale devastazione rapidissima sì se si considera che poi che dal 2020 fino all'inizio di quest'anno è rimasto chiuso sigillato intero probabilmente vedendo anche come è stato messo i mobili tutto il mobilio e i bagni quelli sono stati tolti via troppo bene precisi anche se poi sono stati sbattuti fuori all'esterno almeno tanti mobili e lì deve essere stata un'impresa che doveva sgomberare però tutte le piastrelle di velte tutti i cavi strappati del soffitto dalle pareti quali sono ladri e si sono dati da fare insomma in questi dieci mesi ultimi dieci mesi di abbandono si sono dati tanto da fare e poi c'è il commento di max che scrive ciao marco complimenti per aver mantenuto i nervi saldi quando hai incontrato il tizio l'ultimo piano è veramente una discarica nonostante sia abbandonato solo da quattro anni il piano terra mi è piaciuto molto peccato non aver concluso l'esplorazione guarda te lo dico anche a te aver mantenuto i nervi calmi mi comporto come mi comporterei con chiunque e ti dico facendo così stando tranquilli parlando educatamente non mi è mai successo niente con nessuno di certo anzi se si scappa è peggio si scappa ci si mette le tigare lì sì che sono cazzi perché quello dice ma questo mi vede scappa cos'era uno sbirro andiamo a pestarlo invece tranquillo ci sferma si parla ci saluta e finisce lì basta poi c'è alex che commenta la devastazione è stata rapidissima per esserci un pseudo guardiano se così si può chiamare vista le condizioni igieniche nelle quali vive c'è tantissima roba che si può recuperare e riusare tipo le due auto quel bongo non si chiama così ma non ricordo come l'è chiamato e tantissima roba elettronica che forse con pochissima spesa si sistema o forse non ha niente ed è solo buttata via marcire peccato proprio no le auto guarda ho visto gli mancano dei pezzi si possono sostituire però sì si potrebbero recuperare lo jambè mi sa che è del tizio lì che perché era troppo ben accordato ho provato a tirargli un paio di ditate la pelle era bella tesa accordata giusta vuol dire che qualcuno lo tiene gli fa manutenzione perché se no col freddo e con l'umidità che ci sono in sti giorni la pelle sarebbe tutta smollacciata e non suonerebbe invece vuol dire che c'è qualcuno che lo suona e probabilmente è quel tizio lì che ho incontrato che di certo non è un guardiano è uno che abita lì abusivamente perché se fosse un guardiano avrebbe almeno un cesso con acqua corrente il riscaldamento non sarebbe a dormire lì nella devastazione e a scagazzare in giro per le camere che non usa poi c'è Enrico che scrive che scempio in quattro anni lo hanno distrutto peccato comunque la luce che è ora va molto bene al minuto 16 54 ha inquadrato una bicicletta che io avrei controllato probabilmente è la bici del tizio che hai trovato lì dentro chiudo con una mia considerazione una società che al suo interno ha situazioni di questo tipo ha qualcosa di sbagliato che va sistemato prossima spesa telecamera nuova guarda la luce che ho usato è sempre questa l'hai già vista l'ho già usata sono anni che la uso ormai è sempre questa non ho cambiato niente quindi boh e la telecamera come hai visto no riprende bene l'unica cosa è che ballonzolava un po' troppo perché mi sono fatto un altro accrocchio sistemato su questa luce qua però devo fissare meglio l'aggancio della videocamera e così non ballonzola più però per il resto mi pare che si veda bene tutto senza bisogno di comprare videocamere nuove la bicicletta probabilmente sì era del tipo lì ma cosa me ne frega di controllarla tanto una bicicletta lì che sia sua o che sia abbandonata boh a me non cambia niente e la situazione così si sa in che paese viviamo chi governa cosa gli interessa di più se sistemare certe situazioni o regalare soldi all'albania per fare i centri centri di detenzione per gente che magari non dovrebbe neanche essere lì per poi mandarne 16 alla volta spendendo roba tipo 18 mila euro a persona ecco se le spese vengono fatte in questo modo poi i soldi che servirebbero per risolvere situazioni come quella di gente che è costretta a vivere in posti abbandonati ciao poi c'è il commento di Mario ciao Marco grande video mi ricordo benissimo di questo motel ho fatto per anni andare a Mediterranea e ci parcheggiavo di fronte al pagoda organizziamo per cercare di entrare a visitare la discoteca che vengo con te io sono di Saronno quindi siamo vicini ciao Marco ciao grazie ma come ho detto prima nella discoteca non si entra perché c'è il custode la discoteca non è abbandonata è solo in disuso poi c'è il commento di Andrea il bagno era bello sono venuto quando ho fatto il provino pomofiore programma di antenna 3 cavolo lo conosco il pomofiore tra l'altro conosco uno che era lì a fare le luci e sì che programma del cazzo mamma mia quella era proprio la decadenza di antenna 3 poi c'è Andrea che commenta come avevo già notato dalle foto che hai pubblicato da come hai messo questo posto sembra in stato di abbandono da quasi 30 anni minimo un vero peccato credo che quando ero in funzione doveva essere bellissimo comunque hai fatto bene ad andartene per non avere casini ovviamente non era per conto del proprietario è sicuramente uno che si abita lì bella esplorazione sì sì di certo non era lì per conto del proprietario è uno abusivo che boh non so se è poveraccio o se era lì per chissà che motivo però sì è uno che si abita lì abusivamente e lo stato di abbandono si sembra abbandonato da 30 anni ma come ho detto prima negli ultimi dieci mesi i ladri si sono dati da fare di brutto hanno spaccato per portare via cose insomma un vero scempio poi c'è Damor che commenta ciao Marco come sempre gran bel video ci sono rimasto molto mare nel vedere pagoda conciato così sei riuscito a capire se il Mediterraneo è in stato di abbandono? caspita è un vero peccato quante serate passate in quel posto? no come ho detto già prima ripetutamente il Mediterraneo non è in stato di abbandono quindi non ci si entra a me più che dell'hotel pagoda mi dispiace per il Mediterraneo perché ci avevo passato tante domeniche pomeriggio lì dentro anche tanti sabato pomeriggio poi e nella sala 2 quella dove facevano la tecnopestona cassa dritta peccato che sia chiuso e arriviamo all'ultimo commento di oggi sempre sotto lo stesso video che è di Francesco Marco hai fatto bene a non disturbare quel signore mi spiace sia per lui ovviamente ma sia per come è conciato il posto sembra sia passato l'uragano lì dentro guarda io non so se mi dispiace perché sì se uno è costretto a vivere in un posto così sì mi dispiace in ogni caso quello sì però se poi lo tratta così che apri una porta e ti gira la testa per la puzza che c'è dentro no quello vuol dire che in qualsiasi posto anche se avesse una casa sua di proprietà magari la tratterebbe così che schifo e lì altro che uragano te l'ho detto tra impresa che ha smontato tutti i mobili e tutti i bagni e ladri che hanno spaccato piastrelle pavimenti e rame sì altro che uragano per oggi questo era l'ultimo commento prossimo video ancora non so cosa farò quindi anche questa volta sorpresa intanto continuate a seguirmi sul mio canale youtube 2speed se non siete ancora iscritti iscrivetevi così mi aiutate a farlo crescere iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbex mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursione e viaggi in kayak dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina 2speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, legno e metallo e vi do appuntamento al prossimo video oh yeah